musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi parliamo di un sacco di novità molti pezzi del puzzle si stanno cominciando ad assemblare in modo da portarci verso la season numero 8 ragazzi nel video di oggi parleremo ovviamente degli uroboro anzi del dell'uroboro vi spiegherò bene cosa è come simbolo che cosa rappresenta e perché le skin che sono state proposte nello shop di ieri sono molto molto importanti per quello che riguarda la storyline di fortnite ovviamente ragazzi non mancheranno anche degli argomenti interessantissimi parleremo della nuova chug perché dico nuova chug vedrete ragazzi durante il video e parleremo anche di nuove funzioni interessantissime per quello che riguarda il gameplay delle nostre partite però ragazzi prima vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto supportatemi mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuna notifica visto che youtube non le manda in questi giorni dei miei video e delle mie live ma prima ragazzi la domanda domanda importantissima mi raccomando i vostri commenti qui sotto perché mi fa un sacco piacere leggerli e la domanda ragazzi è davvero semplicissima anche per restare in tema quale delle due skin preferite paradox o trace grill non mi ricordo come si chiama lei insomma il maschio o la femmina ragazzi io personalmente preferisco lei mi piace molto di più mi piace l'ho anche scioppata per la pami perché la voleva fatemi sapere invece qual è tra le due la vostra skin preferita quindi ragazzi ciancio alle bande e bando alle ciance andiamo subito a parlare dell'argomento più hot di questo video le skin uroboro il set uroboro ragazzi uscito appunto da poche ore con lo shop di ieri per la precisione che comprende oltre alla coppia di skin anche il deltaplano e il piccone piccone è davvero molto molto particolare una vanga con gli spuntoni perché ragazzi dico che queste skin sono molto importanti perché ci sono dei dettagli che ci fanno un attimo aprire gli occhi e perché il simbolo che state vedendo disegnato sopra le maglie di entrambi in questo momento ve lo sto facendo vedere un pochettino più zoomato è un simbolo molto molto importante per la cultura mondiale perché è un simbolo che esiste realmente che simbolo è ragazzi come vedete è un drago o un serpente un pochettino diciamo va a interpretazione che si morde la coda allora il simbolo originale ragazzi non è ovviamente fatto a forma di infinito ma è circolare ve lo faccio vedere tra poco tra l'altro ragazzi quel drago che abbiamo visto questo drago che vi ho appena fatto vedere è molto 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 somigliante a quei draghi che sono presenti nelle uova o almeno a queste forme non so se le vedete bene in sopra di me ragazzi disegnate dentro le uova le abbiamo anche sentite pulsare in questi giorni allora ragazzi questa è un'immagine veramente molto molto antica stiamo parlando ragazzi è di un'immagine del 1478 di un uroboro allora che cos'è l'uroboro è un simbolo molto antico e si trova in molti popoli in diverse epoche rappresenta appunto un serpente o un drago quindi o uno o l'altro che si morde la coda formando un cerchio infinito quindi senza inizio e senza fine le citazioni dicono apparentemente sembra immobile ma in realtà è in un eterno movimento quindi non si ferma mai rappresenta proprio il potere che divora e che rigenera se stesso l'energia universale e tutta la natura ciclica delle cose insomma ragazzi è un simbolo davvero importantissimo che bisogna capire in quale modo può essere associato a fortnite io ho un po' di paura perché ragazzi ve lo dico subito quando mi parli di potere che si rigenera di natura ciclica delle cose l'unica cosa che a me viene in mente su fortnite che avesse un qualsivoglia potere purtroppo ahimè era il signor cubo ragazzi sono un po' preoccupato seriamente ragazzi sono spero di sbagliarmi spero di sbagliarmi ma l'unica cosa che mi viene appunto in mente è solamente il signor cubo staremo ovviamente ragazzi a vedere bene quale saranno gli sviluppi di questa cosa devo dire davvero che però non me lo aspettavo avesse un significato così importante come simbolo sicuramente c'entreranno ovviamente le uova ma andiamo avanti ragazzi invece parliamo vediamo anzi sopra di me un sacco di righe verdi e una riga rossa per chi ha seguito i miei video conosce benissimo questa tabella questa ragazzi è una tabella che ci accompagna dall'inizio del periodo natalizio e che comprende tutti gli oggetti e le skin nuove che sono state rilasciate come vedete c'è ancora una riga rossa ragazzi quindi viene quasi praticamente confermata la possibilità di ottenere prestissimo l'ultima skin segreta che sarà la skin rhino non sappiamo assolutamente come sia né quali siano i suoi aggeggi ma ovviamente sappiamo che ne manca ancora una ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di un argomento interessantissimo che ha spopolato letteralmente su reddit si chiama multi use chag ragazzi questo è un prototipo perché vi parlo di un prototipo di un utente di reddit e vi faccio anche vedere un filmato ragazzi tra pochissimo perché questo prototipo questo post ha ottenuto 19 mila mi piace su reddit e ovviamente è una cosa che suscita sicuramente l'interesse della community e anche del team di epic games vorrei farvi vedere ragazzi più precisamente cosa ci propone l'utente guardatelo insieme ragazzi una chag che si può utilizzare in base all'esigenza e che una volta portata la nostra salute e la nostra e il nostro shield come si dice full si può comunque continuare a tenere e riutilizzare devo ammettere che è un'idea geniale assolutamente interessantissima avere una scorta portatile di shield o salute ovviamente io diminuirei anche se è in realtà già corretto il drop dei chag ma secondo me ragazzi una possibile nuova funzionalità che non dovrà tardare ad arrivare perché la community di fortnite su reddit è veramente a favore di questo progetto ma andando avanti ragazzi parliamo di un altro progetto interessantissimo questo invece è stato addirittura commentato direttamente dal team di sviluppo di epic games si parla ragazzi di una nuova possibilità per la raccolta delle armi durante il nostro game praticamente cosa vuol dire vi faccio vedere un altro filmato adesso praticamente l'idea di base è sono in giro con una r verde trovo uno scar viola uno scar una r blu al momento in cui lo raccolgo automaticamente mi switcha e mi lascia cadere l'arma corrispondente ma di potenza inferiore vi faccio vedere ragazzi l'idea di base ma porca miseria te sei già passata questa è l'idea di base ragazzi guardate che storia molto molto interessante e qua anche il team di sviluppo di epic games era assolutamente assolutamente a favore di una possibile idea vedete c'è proprio un video che lo spiega c'è lui che trova appunto lo scar leggendario c'è in mano qua c'è ancora in mano il vampa fucile ma al momento in cui lui lo va a prendere non devi fare tutta sta strafialla che prendi metti lo scar davanti lasci giù il vampa bianco no assolutamente adesso quando lui vi fa vedere quando lo va a raccogliere noterete che effettivamente è davvero una cosa comodissima vedete ha automaticamente switchato il vampa bianco con lo scar silenziato così come ha fatto ad esempio in questo momento con la chug e le bombe ballerine insomma ragazzi una cosa interessantissima che potrebbe davvero ma tu sei sempre in giro sei una cosa è lì che continuare a uscire una cosa interessantissima che ragazzi anche il team di sviluppo di epic games ha apprezzato e ha detto che ci penserà su perché potrebbe davvero rivelarsi una svolta per il nostro gameplay beh ragazzi io direi che per oggi vi ho davvero aggiornato su tutto spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando un bel po di like iscrivetevi in tanti al canale e noi ci vediamo presto ciao